E' veramente... Se volete farlo fatele vedere, però. Ci siamo. Ma potremmo anche bel contatto, perché proprio... Allora... Ehm... Io lo so che non si dovrebbe fare, però c'è... Quando il pubblico è caldo... A parte che mi hanno detto, oh... Non andare a fare il concerto a Boudou... Non andare a fare il concerto a Boudou... A Boudou è un pubblico che è fruttissimo. Ma non è un altro polvere di sassari, eh. Ambasciatore al portapè. E invece, beh, è bellissimo vedere che siete così calorosi. Torino, che ci posso fare? Hanno sbagliato, ma io preferisco quando applauso. Allora, siccome... Così non mi devo portare... Eh, scusate, ho visto adesso. E' bellissimo fare un concerto sotto un teatro comunale intitolato da Andrea Carotti. Non so che ci sia stata l'idea di chiamarla così. C'è un'idea di chiamarla. Questi sì che sono applausi giusti. Eh, sì, appunto, quelli di prima non erano giusti, però io vi ripeto. E' una legge, i gettisti dicono, ah, quando è così, non sta rendita... Facciamo una cosa, facciamola a controprovo, ok? Allora, se lo so, 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 facciamo una controprovo. Allora, io, ehm, vi faccio a conto 4, 5, tiro giù, state tutti zitti, ne facciamo una con o una senza, una con applausi e vediamo il risultato, ok? Tutti assieme, 1, 2, 3, 4... Tutti assieme, 1, 2, 3... Ho, 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 ho. Oh, non so rifarlo più eh. stein che un'altra volta se lo faccio a me vi lasso chiate a questi posti. Io, 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 io! Mamma! Io, io, io! e il nello del mondo alla fase del corpo del resto che fa il padre valla a curarlo che tiene il cielo del genere perché quando uno ha avuto questo delivio chiaro che non c'è qualcuno tradizioso è solo una cosa che tutti i nostri invigliano e lo sapete che arriva è il vostro mare e mi arrivo anche qui quest'esera, mi lascio tutti da questa parte bellissimo, fermi così, fermi così guarda, 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 guarda lì onde guarda che è successo e senti che da un uomo che fa io 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 No d'acqua si era Volta una sera Non d'acqua si è Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.